HTC Sensation XE è uno smartphone dalle mille caratteristiche. Subito ad una prima occhiata si nota la qualità dei materiali e costruttiva che da sempre contraddistingue i terminali HTC. Design elegante e colorato, il corpo è in alluminio per conferire il massimo della resistenza e leggerezza. Il nuovo Sensation XE spicca per il suo incredibile display da 4,3 pollici, che offre una risoluzione di 540x960 pixel. La qualità delle immagini e dei colori sono garantiti dalla tecnologia Super LCD. L'esperienza audio è altrettanto coinvolgente. Nato da una partnership con Beats by Dr. Dre, HTC Sensation XE offre una qualità dei suoni senza precedenti. Le cuffie Beats personalizzate consentono una riproduzione pulita con suoni forti e senza disturbi. Anche la fotocamera è sopra la media. Sensore da 8 megapixel e flash a LED per consentirvi di scattare foto di estrema qualità o registrare video in formato Full HD. Sulla parte frontale inoltre vi è una seconda videocamera da 0,3 megapixel da usare per le videochiamate. A coronare il tutto, HTC Sensation XE offre una dotazione hardware da top di gamma. È mosso da un processore dual core da 1,5 GHz con 768 MB di RAM. Ha una memoria interna da 2 GB, espandibile con lo slot microSD con schede fino a 32 GB e possiede davvero tutto ciò che serve per la connettività. Dispone infatti di Wi-Fi, Bluetooth, GPS, radio, modulo GSM ed HSDPA. Grazie a questa potenza, ogni applicazione offerta ad Android Gingerbread girerà a tutta velocità con il massimo della fluidità. Inoltre HTC Sensation XE è dotato di una batteria a litio da 1730 mAh che vi consentirà di non rimanere a secco durante la giornata. HTC Sensation XE si propone come vero e proprio smartphone per audiofili, ma non solo, grazie alle sue caratteristiche è infatti capace di soddisfare le esigenze di chiunque. Grazie a tutti. Grazie a tutti.